Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti nel nostro primo video Lei è Viola E lei è Emanuela E insieme siamo le Sister Nel nostro primo video, per farci conoscere meglio Abbiamo deciso di fare L'intervista doppia Allora, come vedete qua c'è mia sorella Che sta facendo così E quindi Lasciate la stare Faccio la pinta come se fosse un suono E iniziamo con il Alpita, devo dire una cosa Non c'è la linea, quindi è la linea dell'armario E infatti Allora, iniziamo con la prima domanda Nome Manuela Viola Cognome Ferrara Soprannome Manu Non ce l'ho Hobby Ehm, il mio hobby è ballare o disegnare Cioè disegnare o cantare Il mio hobby è Cioè mio fratello che ci sono a studiare Lo sai che ho un sacco di E a studiare il suo hobby Perché beh, studio sempre Sogno Il mio sogno è Viaggiare in tantissime parti del mondo Tantissime Tantissime Andare a Verona Dove sogno andare? A Verona Perché ci sono due nostre Cioè Ma che fan? Ci sono due nostre Idole Che Ci sono un sacco E si chiamano Rolla di vita Quindi state guardando i suoi video Ciao I love you Ok Allora E noi vi spolliciamo sempre Allora Mia sorella ha fatto vedere appunto ora Il telefono con Cosa? Io sto voglio dare Allora Lei sta morendo alle risate Lo so io togli Ok Prossima domanda Prossima domanda Quella canzone preferita? La mia canzone preferita è Giravolte Quella che dice Giravolte Giravolte Solo per farti guardare Ti faccio in fronte Vabbè la mia Basta Basta La mia farfalla è quella che dice Nella pelle Ho perso le emozioni Me le ritrovi tu Da questa notte Basta 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 Prossima domanda, prossima domanda, il gioco preferito, il gioco preferito mio è, un nascondino, prossima, cioè il tuo e il mio è, un due testelle. Ok, prossima domanda, allora le mie idole come vi ho detto prima sono Aurora e Ludovica, anche le mie, salute i tuoi fan, ciao, ciao ragazzi, speriamo che questo video vi sia piaciuto, lasciate, iscrivetevi al canale, lasciate tanti mi pollicioni in su, attivate la campanellina per non perdere il messo nella figlia e ciao. Oh mio Dio, ciao ragazzi, ciao ragazzi.